un grande spettacolo ciao Nala hai visto? Connie sta distribuendo gli inviti per il suo spettacolo ma questo è di Lea? oh no fanno tutte e due lo spettacolo oggi io alla stessa ora qua le andiamo a vedere dei due? ehi oh? Colin, quanto sei carina oggi grazie, stai bene anche tu tieni, questo è l'invito per il mio spettacolo oh no, abbiamo avuto la stessa idea il mio spettacolo è oggi pomeriggio alle tre anche il mio oh no, come facciamo adesso? non c'è problema posso spostare il mio spettacolo sciendo un'altra data ma figurati, la cambio io ok, allora la sposti tu ah sì? e perché dovrei farlo io e non tu? perché l'hai proposto tu sì, ma puoi cambiarla anche tu fallo tu no, tu tu basta sai una cosa? facciamo decidere le ragazze beh, allora preparati perché il mio spettacolo è bellissimo e vorranno sicuramente venire tutte al mio questo è da vedere ferma vieni qui guardatemi No, guardate me! Ammetti, lo sei invidiosa perché sai benissimo che sono molto più brava di te! Guarda e impara! No, tu guarda e impara! Troppo facile! Perché non provi ad aggiungerne un'altra? Vediamo come te la cavi tu invece! Prendi questa! Più veloce, così mi annoio! Lo so fare anche con gli occhi chiusi! Guarda a me, con la pilloletta! Più in alto! Wow, è incredibile! Ma come fanno? Insieme siete imbattibili! Sì, siamo imbattibili! Sì, siamo imbattibili! Let's do it together! Siamo fantastiche! Yeah! Siamo per la vita! Sì, per sempre! Yeah! Sì! Sì, sì! Sì! Sì, sì! Sì! Grazie a tutti.